Mi è stato impossibile ieri analizzare subito dopo la partita la sconfitta all'Artemio Franchi di Firenze per 2-1 contro la Fiorentina. Sarebbe stata una valutazione di pancia, una valutazione influenzata dal nervosismo post-gara, dal nervosismo che ovviamente contraddistingue tutti noi tifosi rossoneri quando non arriva il risultato sperato, quando non arriva la prestazione sperata. Ora, dopo una decina di ore, siamo qui con maggiore lucidità ad analizzare la partita. Premessa, una sconfitta meritata. Una sconfitta in cui bisogna dare, secondo me, visto che l'Italia in generale, in tutti i settori, ma soprattutto nel mondo del calcio, non dà mai merito a chi vince, a chi trionfa. Si cercano sempre delle giustificazioni, si cerca sempre in qualche modo di giustificare la sconfitta e mai premiare il merito. No, rubrica rossonera vuole essere diversa dagli altri attestati giornalisti, vuole essere diversa da altri addetti ai lavori. Una sconfitta meritata perché la Fiorentina ha fatto davvero un'ottima partita. Un'ottima partita grazie alla sua intensità, grazie alla sua lucidità, anche grazie al suo gioco, grazie alla squadra che era molto compatta e cercava molto bene le fasce esterne. Ma soprattutto con un giocatore davvero molto talentuoso, che già da diversi anni si era messo in mostra anche con De Zerbi in Ucraina, Dodò, che a destra ha fatto molto bene. Chiaramente una Fiorentina che era già negli ultimi partiti in crescita, con mister italiano che è sicuramente un bravissimo allenatore, che quest'anno ha fatto fatica, ha fatto un pochino più fatica di imporre la sua idea e il suo gioco, ha avuto anche diversi infortuni. Ma è sicuramente una squadra molto organizzata, una squadra che quando, come ieri, interpreta al massimo le idee di italiano è sicuramente una squadra difficile da battere. Una squadra, una sconfitta, dicevo, meritata. Sicuramente meritata anche per nostri di meriti, ma non solo, secondo me anche per meriti della Fiorentina, per come ha interpretato la gara, per come è scesa in campo, per come, in qualche modo, ha cercato di mettere in difficoltà il Milan. L'ha preparata, l'ha studiata sicuramente molto bene. E quindi bisogna dare merito alla squadra di italiano. E voglio, in qualche modo, rafforzare questa tesi anche con le parole di Stefano Pioli. Stefano Pioli, che nel calcio è un signore, un signore con la S maiuscola, che ha ammesso di come la Fiorentina si è scesa in campo meglio e quindi abbia meritato la partita. Quando ha detto, la Fiorentina ha fatto meglio di noi, giocando con più qualità e maggiore intensità. Non abbiamo corso bene. Nel secondo tempo siamo migliorati, pur subendo due gol, ma abbiamo anche avuto le occasioni per pareggiare la partita. Ha detto, palleggiare contro la Fiorentina era difficile, dovevamo cercare meglio la profondità. Quindi, come vedete, ok, cerchiamo la giustificazione. Il nostro Milan non ha fatto la partita migliore, non ha giocato bene, ma non siamo riusciti anche a giocare bene. Perché un conto è l'atteggiamento. Il Milan, se andiamo a analizzare le statistiche, e ve le leggo, andiamo a cercarle insieme. È stata una squadra che ieri ha fatto più falli della Fiorentina, più contrasti della Fiorentina. Quindi, cosa vuol dire? Che la squadra non è che non c'era, la squadra non è che ha mollato, la squadra non è che non ha lottato. Abbiamo fatto più passaggi della Fiorentina, più precisione nei passaggi, abbiamo fatto più falli, le ammunizioni pari. Però, lì davanti, complice il gioco della Fiorentina, complice il sistema con cui ha interpretato la gara della Fiorentina, siamo stati poco cattivi, poco lucidi lì davanti, poco precisi. Abbiamo creato poco, perché abbiamo fatto 8 tiri in porta, 6... 8, scusate, 8 tiri totali, 6 in porta, e bene il doppio alla Fiorentina, 16 tiri totali, di cui 9 in porta. Ha avuto 11 calci d'angolo alla Fiorentina e 5 calci d'angolo in noi. Quindi, ripeto, onore alla Fiorentina. E in questo momento bisogna analizzare, senza, come dico sempre, senza, in qualche modo, cercare un colpevole, senza, in qualche modo, valutare negativamente la stagione, senza valutare negativamente l'allenatore, i singoli. Si perde tutti insieme, si vince tutti assieme. Può capitare una serata in cui l'avversario ti mette sotto, in cui l'avversario ti costringe a giocare male, ti costringe, ti impone di non riuscire a fare qualcosa, però abbiamo veramente una grande occasione, abbiamo una grande occasione contro il Tottenham di andare avanti in Champions League. Dobbiamo scendere in campo con una brillantezza diversa, con una lucidità diversa, con un atteggiamento diverso, con una fame, la voglia di raggiungere un traguardo che sarebbe davvero importante a livello di immagine, a livello sportivo, a livello finanziario. Sarebbe una vittoria davvero importante, una vittoria, direi, che potrebbe permettere al Milan di svoltare la stagione anche a livello di mentalità. Il Milan è un grande cantiere, deve continuare a crescere, deve continuare a mettere mattone sopra mattone. Ecco, l'eventuale passaggio del turno vorrebbe dire ancora una volta fare uno step successivo, crescere a livello di mentalità, a livello di crescita, possiamo dire, globale della società, della squadra. Quindi, onora la Fiorentina ieri, complimenti a Mister Italiano, ai giocatori della Fiorentina, noi siamo sportivi, e adesso con grande lucidità, con grande concentrazione, prepariamo la partita contro il Tottenham. Comunque, rubrica rossa-nera è sempre al fianco dei ragazzi, è sempre al fianco dell'allenatore, della società e del nostro grande Milan.